... dovete sapere che in questi giorni si celebra il compleanno di uno dei più grandi personaggi di una partita di me faccio un po' un po' se... se stop non lo so, ma che pare il risotto risottile a voi, c'è un omaggia è che deve fare discorsi c'è un omaggia comunque si ha e il compleanno ai noi non può festeggiarlo anche se ovviamente vive in i nostri cuori non solo, è la grande Elvis Presley. Avrete compiuto quest'oggi 71 anni e quindi in qualche modo c'è un piacere che rivedrete insieme a voi con uno dei più noti il terzo mentor di Elvis Presley che esistono in Toscana e non solo in Italia. Quindi siamo molto felici di avere qui con noi che sono le tite spoglie si sa, ma proprio Elvis ma ci si avvicina il nostro meraviglioso Roberto. come va bene 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 come va bene